Apriamo la pagina amministrativa e parliamo della pagina di politica relativa alla situazione amministrativa della città di Andria. Nuovo scontro nella maggioranza di governo a guida della città di Andria. Lo scioglimento del Consiglio Comunale il 9 novembre scorso ha indotto il Sindaco ad accusare gli assenti di irresponsabilità, ma ad accusare anche il suo stesso partito, Forza Italia, di voler solo danneggiare appunto la figura del Sindaco. Ecco la cronaca dei fatti. Vento di tempesta agita il governo cittadino andriese, ancora scontro in maggioranza dopo che la scorsa seduta di Consiglio Comunale è stata sciolta dopo quasi tre ore di dibattito per mancanza del numero legale. 18 assenti, 15 presenti, assenti Michela D'Avanzo, Antonio Nespoli, Saverio Fucci, tutti e tre di Forza Italia, Francesco Pollice per Andria in Movimento, a cui poi si è aggiunto sul tardi l'allontanamento della consigliera di Pilato che, seppur non più in maggioranza, era la consigliera numero 17 che garantiva la tenuta del numero. Nel suo provvedimento approvato, questa in estrema sintesi la cronaca dei lavori, che si sono concentrati sul regolamento relativo al carico e scarico merci presentato dall'assessore Matera dopo la consuetà ora di interpellanza e l'intervento iniziale della consigliera di Pilato di aderire al gruppo misto, passando dal partito di Forza Italia, dopo la sua elezione come consigliere provinciale in forte democratico. Nessun altro argomento. Durante questa discussione, le forze di opposizione hanno abbandonato l'aula dopo che il consigliere dei Cinque Stelle lo conti aveva chiesto la conta dei presenti. L'assenza compatta delle minoranze con i cinque consiglieri di maggioranza ha indotto il presidente Fisfo a sospendere la seduta. Alla ripresa, persistendo la situazione numerica dei consiglieri comunali, il consiglio è stato sciolto. Non è stato possibile discutere del regolamento relativo ai Deor proposto anch'esso dall'assessore Matera né della ratifica della delibera di giunta relativa ad una variazione di bilancio riguardante l'aumento Tari. Ma in asprire fortemente gli animi è stato l'intervento del sindaco che ha mal digerito lo scioglimento della seduta e che con un post sui social ha definito irresponsabili gli assenti. Il consiglio comunale, ha scritto il sindaco Giorgino, avrebbe dovuto approvare due regolamenti attesi e fondamentali per il commercio e la città quello sui Deor e scaricommerci. Ma talunni consiglieri comunali di maggioranza hanno deliberatamente boicottato la seduta, ha scritto il sindaco, con polemiche strumentali e assenze ingiustificate. Da parte di Forza Italia, un partito ormai in stato di putrefazione, affondato il primo cittadino, prosegue un'azione inconcepibile volta a danneggiare non me o l'amministrazione comunale, ma la città tutta. Questa gente si dovrebbe dimettere e lasciare posto a chi vuole lavorare davvero per la città. Non avete senso della responsabilità, conclude, serietà e autorevolezza morale. Immediata la reazione del partito e dello stesso sindaco Forza Italia, che in una nota ha scritto «Con supporto e sconcerto apprendiamo dai social di un attacco senza precedenti del sindaco Giorgino nei confronti del Forse, suo partito e del gruppo consigliare di Forza Italia, Andrea». Forza Italia ha da sempre dimostrato realtà e trasparenza nei confronti del sindaco e del suo esecutivo, accompagnando con senso di responsabilità la vita amministrativa della Giunta. Per questo, spiace e infastidisce che il sindaco nel suo post su Facebook abbia ribaltato la realtà dei fatti, forse convinto di poter nascondere le criticità e le difficoltà reali del suo operato e della sua amministrazione. Volendo stare ai fatti e per una reale ricostruzione di quanto consumatosi nel Consiglio Comunale, a far venire meno il numero legale non è stato certamente il gruppo consigliere di Forza Italia, bensì un consigliere di una lista civica molto vicino al sindaco. Ricordiamo a Giorgino, conclude il partito, che Forza Italia non è in alcun modo un partito putrefatto, così come da lui definito, ma è quel partito che le ha concesso l'onore per ben due volte di guidare la città di Andria. Il tempo delle pantomime dei comunicati tesi a voler avvelenare gli animi è finito. Giorgino, pensi a riprendere in mano il futuro della città e degli andriesi. Prima, però, gli consigliamo un bagno di umiltà e una profonda riflessione sui propri svariati errori. Grazie a tutti.